Non si sono fermati all'alti imboccando via Domodossola contro mano i due pusher presi mercoledì a Batipaia nel corso dei consueti controlli antidroga in città. Gli agenti del commissariato hanno intimato in piazza Napoli lo stop al veicolo in cui avevano intravisto un noto pregiudicato. Dopo lo speronamento alla volante da parte della gang, la fuga si è conclusa con la cattura da parte degli agenti di un 35enne e un 21enne che dopo i controlli di diritto sono stati ristretti ai domiciliari in attesa delle decisioni e l'autorità giudiziaria. Sequestrati 18 grammi di hashish e un grammo di cocaina a bordo dell'auto erano in 5, compresa una donna.